ciao 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 a tutti bentornati sul mio canale allora 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 è da tantissimo che non giro un nuovo video e come avrete potuto capire dalla mia assenza in questo lasso di tempo mi sono sposata quindi diciamo che ho organizzato tutti il resto dei preparativi insieme a mio marito ed è stata e sono stati dei giorni molto impegnativi per entrambi vi ringrazio di cuore per tutti 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 i commenti e i messaggi che abbiamo ricevuto su instagram soprattutto ti auguri siete stati in tantissimi e vi ringrazio davvero di cuore e se volete vedere qualche fotina io a man mano le sto caricando su instagram quindi basta che mi seguite come sempre trovate i miei riferimenti in alto qui sulla mia faccia se non sbaglio dovrebbero essere o qui o qui o proprio in basso comunque trovate ogni riferimento al mio canale alla mia pagina instagram allora io non ho ancora fatto il viaggio di nozze perché come saprete dalla situazione è un po' difficile adesso muoversi quindi non so dove andare esattamente stavamo pensando di magari andare in qualche posto in italia quindi verso fine ottobre oppure novembre dicembre adesso vediamo un po' di ritagliarci qualche giorno e andare in qualche posto qui in italia anche se io sono sincera vedo ogni giorno persone partire vedo su instagram ragazzi e ragazze partire anche qui su youtube vedo tante ragazze comunque comuni mortali voglio dire non persone di fama mondiale ma persone comunque normali che partono e vanno ovunque e quindi io non capisco se c'è il rischio oppure non c'è il rischio c'è però la gente o non se ne frega oppure viaggiare è facile solo che io non so perché e sarò scema diverso rispetto agli altri perché ancora sto qua comunque spero 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 che per l'anno prossimo tutto passi e tutto si sistemi perché voglio viaggiare ragazzi cioè io amo ma penso come tutti quanti noi amo viaggiare ma io stare troppo tempo sempre a fare le stesse cose mi stressa la vita e quindi non vedo l'ora di partire e di andare a scoprire posti e culture diverse quindi spero che la situazione si calmi e l'anno prossimo devo proprio sbancare con i viaggi e vabbè adesso la smetto allora prima di parlarvi un po' scusate se non mi vedete la fede ma la sto stringendo sia io che mio marito la stiamo stringendo perché sono venute un po' troppo larghe e quindi sta a stringere poi ve la faccio vedere nel get ready del matrimonio prima di partire un po' a parlare di cosette le cosettine vi faccio vedere delle novità allora sono molto felice di collaborare con daniel wellington un sacco di ragazze ci collaborano e oggi vi faccio vedere delle cose troppo troppo belle comunque ve le mostrerò anche nelle storie instagram e ve le mostrerò anche magari con una foto questa collezione che si chiama elan che adesso vi mostrerò io ho gli orecchini e la collana e sono veramente adorabili e vedete anche come il regalo è bellissimo e potete magari anche già iniziare a pensare a qualche idea di natale forse un po' troppo presto però secondo me ci sta ci sta anticiparsi per non arrivare un po' troppo sotto sotto allora quindi diciamo che daniel wellington dal primo settembre daniel wellington lancia le nuove collezioni di gioielli elan emali ed espiration che sono disponibili dal primo settembre sia online che nei negozi proprio daniel wellington lascio il codice sconto del 15% e ve lo lascio giù in info box in modo che voi se vi piace qualcosa usufruite di questo codice sconto e allora adesso vi mostro è la collezione elan io di questa collezione qua è molto molto classica minima alla però è molto elegante questa collezione questi sono gli orecchini vedete sono davvero molto belli e sono due cerchietti ovviamente io dovevo scegliere per forza i cerchietti perché sono qua sopra vedete non so se leggete ma c'è scritto daniel wellington e gli ho scelti argentati perché secondo me l'argento mi sta molto molto bene rispetto al dorato o oro rosa comunque questi cerchiettini qua sono troppo carini io non ce li avevo ma li trovo di un elegante mai visto quindi vedete guardate anche con i capelli mezzi legati mezzi raccolti secondo me secondo me vedete stanno molto bene così e non so se vedete scusate se sono poco truccata ma con la mascherina è quasi inutile truccarsi cioè vabbè un po' truccata sono perché ho la base e le sopracciglia e un po' di rossetto che dopo andrò a eliminare però diciamo che questo fatto del virus ti sta facendo passare la voglia di fare un po' tutto spero veramente che passi in freddo e poi ragazzi ha anche proprio il packaging e le scatoline vedete come altra cosina sempre di questa linea Elan che è veramente una linea pazzesca cioè ci sono anche altre cose però io ho voluto scegliere gli orecchini e la collana la collana è questa qua vedete è uguale agli orecchini ed è troppo bella praticamente è così adesso ve la faccio vedere eccoci qua questa collana secondo me è bella anche sia sulla maglietta ma anche su un come dire in estate su un vestitino così voi avete inabbinato collana ed orecchini è molto bella così e anche qui è tipo un cerchietto quello scritto Daniel Wellington c'è anche in altri colori però io l'ho voluta prendere così è molto carina allora 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 cosa dirvi mi avete chiesto un pochettino ah comunque per quanto riguarda questi gioielli oggi vi ricordo che vi ricordo che vi lascio tutto in dettaglio giù in infobox e allora mi avete chiesto un po' di parlare del matrimonio che dirvi facciamo una piccola story time allora io e mio marito abbiamo deciso di sposarci a a praticamente noi ci avevamo in programma di sposarci non ho avuto nessuna un sacco di ragazze mi hanno detto hai avuto una proposta di matrimonio no non ho avuto nessuna proposta di matrimonio però non lo dico lamentandomi ma lo dico proprio perché ce lo siamo detti insieme nel senso abbiamo deciso insieme e anche perché stiamo da 11 anni insieme quindi era già in preventivo e poi è venuto il virus e diciamo siamo andati un po' in ansia perché stando in lockdown abbiamo detto come facciamo ad organizzarci però per noi questa è stata una maggior spinta a muoverci e quindi passato il lockdown subito immediatamente due giorni dopo abbiamo scelto due o tre giorni dopo abbiamo scelto la location subito cioè per noi quella era e quella è stata e la location del mio matrimonio non lo dico perché è stato il mio matrimonio ma perché è meravigliosa ovviamente per privacy io non vi dirò i nomi delle location dei fotografi è di tutto però vi dirò io mi sono sposata sia chiesa che ristorante l'ho fatta nello stesso esatto posto dove l'hanno fatto i miei genitori 26 27 no 27 anni fa e io ho scelto la loro stessa location e la loro stessa chiesa quindi per me è stato veramente ancora più emozionante e anche per le persone che erano al mio matrimonio perché si ricordavano che 27 anni fa lì si è sposata mia mamma quindi la loro sorella e mio padre e io praticamente inizialmente inizialmente avevo scelto un'altra chiesetta molto piccola però per via del covid mi hanno detto di cambiarla perché non accettava matrimoni con più di 20 persone il mio matrimonio è stato un matrimonio molto ristritto perché non eravamo più di 50 quindi eravamo pochi e però per me è stato lo stesso anzi è stato magico e abbiamo quindi cambiato chiesa e girando girando sono capitata non volendo nella chiesa dove vi dicevo appunto si è sposata mia mamma tanti tanti anni fa quindi la mia chiesa diciamo nel mio paese d'origine dopo aver scelto la location abbiamo scelto il fotografo anzi abbiamo scelto la location poi abbiamo messo la data fissato la data con la chiesa e da lì abbiamo scelto il fotografo anche lì abbiamo fatto dei giri di fotografi anche perché al giorno d'oggi tutti quanti si sentono top del top poi abbiamo scelto c'era un fotografo che si vantava diceva che lui era bravissimo era top era non si sa e non si sa cos'era anche se devo ammettere era molto bravo a fare le foto però alla fine siamo andati sull'umiltà e abbiamo scelto un fotografo diciamo un gruppo un team una squadra di videomaker e fotografi molto molto bravi e sono siamo rimasti contentissimi veramente contentissimi poi vi farò vedere con calma su instagram le foto del mio matrimonio appena me le inviano dopodiché abbiamo scelto la fioraia anche lì abbiamo fatto vari giri e poi sono capitata nella fioraia diciamo di mia mamma sempre di tanto tempo fa e quindi come tradizione ho fatto tutto da lei il mio matrimonio voi volete sapere il tema il tema del mio matrimonio è siccome io abito in penisola sorrentina il tema del mio matrimonio è limoni quindi come giusto che sia ho fatto tutto tutto a tema limoni maioliche e stile costiera ed è venuto meraviglioso ragazzi meraviglioso veramente e adesso potrete vedere qualche foto su instagram però vi faccio vedere per esempio il tablo guardate il tablo era un albero di limoni con non so se vedete un albero di limoni con tutti i cartellini appesi con i posti della gente a sedere i cartellini erano praticamente non so se vedete vedete tutto maiolicato e questo è il tablo mio vedete c'è il limone appeso e vi faccio vedere per dire altro se trovo il mio menù vedete a tavola c'era questo menù con il limone questo è stato tutto ideato da me e mio marito vedete questo l'abbiamo comprato noi abbiamo fatto tutto noi questo l'ha fatto cioè l'ha stampato un nostro amico le cose cartacee le ha stampate lui però con il nostro disegno cioè con la nostra idea abbiamo fatto tutto noi per questo matrimonio le idee sono state tutte nostre e queste sono le nostre calamite segnatavolo vedete con le nostre come si dice con le nostre caricature vedete anche queste sono state disegnate da un nostro amico che ci ha fatto i disegni delle calamite ma anche ci ha creato le nostre bomboniere di ceramica di Capodimonte e con la porcellana diciamo di Capodimonte e vedete sono calamite e adesso vi faccio vedere anche i fiori che stavano fuori alla chiesa se ci riesco vediamo un poco ecco eccoli qua i fiori fuori alla chiesa li vedete bianchi e gialli io ho scelto il bianco e il giallo e i limoni pensate fra il covid una volta ti dicono che si ti fanno i matrimoni una volta no tante paure e le ansie ci siamo organizzati e avevamo tanta paura di sbagliare qualcosa fare qualcosa storto invece è venuto organizzato tutto 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 nel migliore dei modi di più delle nostre aspettative diciamo e che dire abbiamo scelto gli abiti abbiamo fatto molto veloce quindi sia io che lui li abbiamo comprati nello stesso posto e lui aveva un vestito blu perché il nostro tema comunque era solo giallo e blu proprio per rispecchiare la maiolica e che se sapete qui in costiera la maiolica è simbolo proprio e anche in penisola i limoni quindi dovevamo rispecchiare questa questo tema il mio marito si è vestito di blu le mie sorelle mia sorella chiara damicella blu mia sorella anna la testimone blu mio cognato blu e e poi vabbè tutti gli altri si sono vestiti come volevano io ho scelto un vestito che adesso lo tengo appeso lì e lo guardo e me lo voglio rimettere ragazzi io non ci credevo quando dicevano poi quel vestito lo vorrai tenere addosso e non vorrai toglierlo più io che non sono un amante dei vestitoni lunghi dicevo eh sì vabbè invece adesso guardo il mio vestito e a volte mi viene una stretta al cuore perché dico non mi potrei sposare altre centomila volte e ma questo significa che quel giorno è stato fantastico per questo il mio vestito allora il mio vestito è un vestito io lo dico lo chiamo un po retro e anche come il mio matrimonio e non è uno dei soliti vestiti a sirena non è uno dei soliti vestiti a parapallo pomposi anche se a me è stato consigliato un vestito a sirena che seguisse la figura ma io ho scelto un vestito totalmente diverso dal mio stile ma che allo stesso tempo mi rispecchiava in pieno e lo adoro ancora di più perché me l'ha regalato la mia mamma e l'ho decorato ragazzi era un qualcosa di principesco al massimo il mio vestito e inizialmente devo dire la verità non lo sopportavo ma quando l'ho messo quel giorno il giorno del matrimonio ho detto no questa sono io e questo è il mio vestito ragazzi vedete è super lungo aveva uno strascico lunghissimo ed era tutto 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 decorato tutto decorato adesso vi faccio vedere magari qualche altra foto vediamo un po' aspettate vedete questi siamo io e mio marito per quel giorno ho scelto di fare i capelli nel lato tipo diva un po' diva ho adorato questi capelli e questa era la nostra torta adesso ve la faccio vedere vedete coi limoni delizia limone la nostra torta queste sono le nostre iniziali disegnate da noi stupendo ragazzi veramente stupendo vedete dietro il mio vestito era molto molto bello adesso ve lo mostro eccolo aveva un fiocco la schiena tutta decorata con tutti i bottoncini ed eccolo qui non so se vedete poi vi faccio vedere una foto ancora più questa è mia mamma vedete siamo io mia mamma qua adesso vi faccio vedere veramente veramente stupendo e e niente quindi quel giorno quel giorno io avevo mille ansie perché diciamo che quel giorno mi sono svegliata e pioveva io già avevo visto il meteo e pioveva portava pioggia anche perché aveva piovuto tutta la settimana allora io quella mattina la notte ho dormito con mia mamma e la mattina appena sveglia alle 6 facevano i tuoni i fulmini il vento c'era di tutto e di più quel giorno veramente io ho detto no io non mi sposo ho detto ma io non mi sposo non mi alzo dal letto dici che non voglio sposarmi più poi mia mamma ha detto no non fa la scema alzati e preparati allora io mi sono messa brava brava ho messo la mia vestaglia il mio fratito e ci siamo preparate mi sono truccata da sola per quel giorno e eravamo scusate se sentite il pianoforte sopra eravamo tutti tutti super tesi e però allo stesso tempo c'era tra di noi una tranquillità tale che anche la parrucchiera il resto delle persone nei giorni precedenti mi dicevano non ho mai visto una sposa così tranquilla l'unica mia ansia era il tempo cattivo poi quella mattina dopo esserci preparate con la pioggia i fulmini e lampi arriva il fotografo e io avevo una sorta di ansia per i fotografi e quelli che mi facevano i video perché non sono abituata ovviamente a farmi fotografare ma è stato meraviglioso ed è stato super divertente collaborare con loro e e quel giorno ho comprato anche un ombrello bianco proprio perché è più viva però non l'ho usato e mia mamma disse comprati un ombrello bianco perché poi ti faccio vedere che poi esce il sole e e quel giorno vabbè faccio foto faccio video eccetera eccetera e arrivo si fa ora si vanno quasi le dieci e mezza allora scendo dalla casa con mio padre e e andiamo ci avviamo io mio padre e mia sorella che faceva la damicella entriamo in macchina nella mia maggiolino bianca d'epoca e ci avviamo verso la chiesa no arriviamo in chiesa e ci dicono mi chiamo mia mamma e mi dice guarda guarda che Emidio ancora non è arrivato e non si è mai visto nella storia che lo spuso fa ritardo rispetto alla spusa però poi ci siamo fatti dei giri così in macchina e poi quando è arrivato lo sposo io l'ho raggiunto quando sono scesa dall'auto mi avvicinavo ancora ero talmente emozionata e talmente contenta che non ci ho proprio fatto caso e infatti adesso vi faccio vedere il mio sorriso a 40.000 denti dall'emozione eccomi qua queste siamo io e mia sorella che scendiamo dalla macchina vedete io ero super emozionata questo è mio padre che mi sistema il velo eccoci qua questa foto è troppo bella e poi dovrei esserci anch'io che scendo dalla macchina ma non so dove cacchiarola sono vedete questo è il mio centro tavola che stava a tavola tutti i limoni con rose bianche bello stupendo veramente stupendo e dovrei esserci anch'io che scendo dall'auto queste siamo io e le mie sorelle aspettate voglio farvi vedete questa foto com'è bella eccoci qua e queste invece siamo io e mia mamma e dovrei esserci anch'io che scendo dall'auto però non mi trovo non so dove sono esattamente forse qua no riesco a trovarmi più ecco questa sono io che scendo dalla macchina non so se vedete che sto entrando in chiesa e e niente arrivo in chiesa e entro e c'era mio marito che mi aspettava all'altare lui super emozionato super teso più teso di me infatti io quando sono arrivata all'altare stavo tipo così ma volata no e il fotografo fa per dire bacialo e io tutta impacciata però poi niente è stato bellissimo perché a un certo punto il prete ha detto gira di sposa è uscito il sole allora io ho viato per girare c'era un sole che aveva smesso di piovere infatti quando siamo usciti dalla chiesa ci hanno buttato i confetti il riso e c'era un sole bellissimo sapete quel sole che ti riscalda dopo che piove e è gestato fino a sera e la giornata invece portava mal tempo me lo ricorderò per sempre perché sull'uscita di casa che pioveva mi sono svegliata e c'erano i lampi e poi sono uscita dalla chiesa sposata con il sole e siamo andati a fare le foto e tutti ci salutavano ci dicevano auguri auguri che belli cose così e mi sentivo una piccola diva non lo so mi sentivo una principessa ed è stato troppo tutto tutto una un'emozione quel giorno e poi quando siamo ritornati all'hotel siamo entrati nel ristorante con sulle note di Dezzamore che chi conosce questa canzone è veramente troppo simpatica e bella e poi ovviamente siamo rimasti anche contentissimi della musica e c'è stato per tutto il matrimonio un clima bellissimo soprattutto mi è piaciuto tanto la sera quando i fotografi ci hanno fatto vedere sia a noi sia ai nostri invitati il trailer del nostro matrimonio che lì mi ha fatto veramente emozionare poi vabbè è finita la festa però è un riassunto noi ci abbiamo messo 3-4 mesi per organizzare tutto e se lo volete in 3-4 mesi ce la fate benissima ad organizzarvi non è vero che ci vogliono anni e ci vogliono mesi ma quando mai se collaborate come coppia ce la fate fare tutto io e mio marito siamo troppo 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 una macchina ancora di più meraviglioso poter vivere questo sogno accanto alle persone che ami quindi io come saprete ho i genitori separati però quel giorno è stato bellissimo perché c'era una sorta di legame e di unione anche da parte dei miei genitori fra di loro e di mio padre anche con me con i parenti che magari sapete si creano quei disagi in tanti anni creano quelle situazioni scomode e brutte tra le persone e io al mio matrimonio ho visto cadere tutte le barriere che si erano create e c'è stata un'armonia si respirava al mio matrimonio una felicità da parte di tutti quanti e questo clima resterà con me per sempre dove c'è la famiglia c'è l'amore e l'amore a volte è così forte da abbattere tutte tutte le barriere e i muri che si possono alzare durante il corso degli anni quel giorno è stato indimenticabile ma non tanto perché era il mio matrimonio ma perché ho visto l'amore e per me conta più di tutto riassunto un po' il giorno del mio matrimonio però è un po' impossibile spiegarmelo così perché sono ancora piena di emozioni invitemi su instagram per vedere nuove foto e presto arriverà il get ready sul video sul trucco del matrimonio io intanto spero spero che la situazione si tranquillizzi perché voglio giustamente andare in viaggio di nozze con mio marito che quest'anno non ci siamo fatti manco una vacanza però però vi ha ragioni consigliatemi qualche posto che secondo voi è possibile accedere dove è possibile accedere e niente spero che mi abbiate un po' capita e ci sono state tante difficoltà perché all'ultimo siamo andati un po' in crisi sempre per via della situazione covid anche perché delle persone che dovevano venire parlo di parenti non sono più venute e ci hanno attaccato ci hanno proprio appeso però non mi interessa io mi disperavo che magari eravamo pochi mi disperavo che pioveva mi disperavo che magari quelle dell'hotel che erano un po' persone bizzarre diciamo un po' persone un po' così ci organizzavano il matrimonio in maniera brutta ed invece ragazzi quel giorno non c'è stata un'unica cosa che non mi è piaciuta la miglia è una cosa la ricchezza più grande che l'uomo possa avere ci vediamo al prossimo video scusate questo commuometto ciao